Le decisioni più importanti riguardano Poste ed Enav, la società dei controllori di volo. Per tutte e due, infatti, dal Consiglio dei Ministri di ieri è arrivato il via libera alla privatizzazione. Attenzione però, privati sì, ma non del tutto, visto che ha detto Enrico Letta in conferenza stampa il governo cederà a quote non di controllo. Come dire, al comando restiamo noi, visto che ci sono in ballo oltre 45.000 posti di lavoro. Con una proporzione che dovrebbe aggirarsi grosso modo attorno al 40% per i privati e il restante 60% in mano pubblica. Entrate per le esangui casse dello Stato tra i 4 e gli 8 miliardi di euro per quanto riguarda le poste, sostiene Saccomani, a cui va aggiunta la vendita del 49% di Enav. Soldi con cui Palazzo Chigi intende ridurre il debito e il cuneo fiscale. E soprattutto lo Stato incasserà risorse che saranno utili e fondamentali, come sapete queste risorse saranno finalizzate alla riduzione delle tasse sul lavoro. Un Consiglio dei Ministri dunque decisivo in cui Palazzo Chigi ha dato il via libera ad altri provvedimenti importanti. Dalle attese e misure per il rientro dei capitali esportati illegalmente all'estero sulla base di un meccanismo di collaborazione volontaria che dice Saccomani non ha nulla a che vedere con operazioni avvenute in passato che di fatto premiavano gli evasori con sconti e condoni fino allo stop del taglio di un punto delle detrazioni fiscali che doveva partire a fine mese senza dimenticare lo slittamento di tre mesi del pagamento di 2 miliardi all'Inail da parte delle imprese messe in ginocchio dalla crisi e gli sconti a camionisti e pendolari che percorrono sempre la stessa autostrada.